Io sono qua a presidiare proprio con loro per solidarietà e perché ritengo giusta la loro protesta perché sono persone che tutti i giorni vengono, lavorano, portano avanti il servizio da anni e stanno subendo praticamente le decisioni dell'ASL che insomma sta cambiando un po' le carte in tavola lo sta facendo in modo unilaterale, non ci chiede un tavolo di confronto e alla fine come consorzio e come cooperativa stiamo veramente quasi distrutti alla frutta perché insomma ci sono un po' di problemi che queste decisioni generano però chi fisicamente praticamente ci va di mezzo sono loro, gli operatori che vengono, lavorano e non sanno se mai avranno lo stipendio, quando l'avranno, cosa gli succederà si parla anche di tagli dei livelli occupazionali quindi c'è anche questa incertezza e sono qua per esprimere la solidarietà mia della cooperativa, anche del consorzio e per insomma capire se si può trovare insieme ai sindacati, alla regione, al prefetto, all'ASL soprattutto perché a parte in causa ha una soluzione che possa non penalizzare nessuno di tutte queste parti in causa All'orizzonte, lo diceva, c'è questo problema della possibilità di tagli nel lavoro di questi operai perché? Perché pende già una nota dell'ASL? Sì, pende già una nota dell'ASL, loro l'hanno saputo anche in anteprima che bisognerebbe chiudere una parte del cantiere, di conseguenza una parte degli operatori sono dedicati a quello e bisognerebbe, insomma c'è la possibilità di dover effettuare dettagli stiamo cercando di ovviare alla cosa ma se la decisione dell'ASL è questa, quella dobbiamo procedere di conseguenza Decorso a breve, dal primo aprile Sì, quindi I soldi, dicevamo quella nota di credita che vi ha chiesto anche l'ASL, 700 e rotti mila euro da restituire Sì, ce li ha chiesti e ci siamo opposti ovviamente perché vogliamo anche rinegoziare ma dal presente e pensando al futuro non possiamo andare dietro per prestazioni rese sempre da questi operatori che stamattina stanno qua a presidiare invece di stare a casa con i propri figli e quindi ci siamo opposti, abbiamo chiesto di rinegoziare per il futuro ma di lasciare intatto il passato e quello che è stato fatto, perché è stato già fatto C'è un problema legato all'appalto che va avanti di fatto Fino a quando non si chiarirà questa problematica si ha l'impressione che questi problemi si rincorrano sempre E c'è necessità che l'ASL, la regione campana in quanto organo politico sulla sanità facciano un po' di chiarezza perché poi non è nemmeno possibile che queste problematiche burocratiche ricadano puntualmente e gravemente sui lavoratori A me quello che mi interessa, a noi come organizzazione sindacale, ci interessa il contratto di lavoro nazionale Quindi la retribuzione a fine mese E abbiamo stato riferito di un taglio Stiamo aspettando anche di sapere questo taglio che avrà il centro di urno Dice che dal primo aprile dovranno chiudere il centro di urno Quindi si parla di una riduzione di personale addirittura Quindi oltre allo stipendio andremo a vedere anche questo taglio che vorrà fare l'ASL all'azienda Noi siamo dipendenti, quindi dipendiamo da una ditta La quale ditta è tenuta per legge a pagarci Ma li tieni o non li tieni i soldi? Non è un problema mio o un problema dei miei colleghi Loro ci devono pagare Perché noi non ci possiamo creare il problema per loro che non hanno i soldi Perché loro, il problema per noi che non li teniamo, non se lo creano Grazie a tutti Grazie a tutti.